Potremmo dire che la metamedicina è complementare alla medicina, in qualche modo è la parte femminile, ovviamente se vi rompete un ginocchio la metamedicina potrà portarvi a capire cos'è che vi ha portati a rompervi il ginocchio ma non riparerà il vostro ginocchio, questo lo farà la medicina. Quando considero qualcosa di ingiusto, una situazione ingiusta e io dico non l'ho digerita, non l'ho buttata giù, mi è rimasta di traverso, mi è andata di traverso. Se soffriamo di esofagite è possibile che si tratti di rabbia che non esprimiamo, è una situazione che non accettiamo della quale non diciamo nulla, non diciamo nulla perché possiamo avere paura che se lo diciamo questo possa creare un conflitto. Penso ad esempio ad un uomo che soffriva di esofagite e che era sposato con una donna che amava molto essere seducente e ogni volta che si ritrovava con i suoi amici lui vedeva sua moglie, la sua donna, che si atteggiava come una sedutrice e questo gli faceva vivere anche della rabbia però buttava giù e non lo diceva perché non voleva avere dei conflitti con sua moglie però non si sentiva rispettato quando lei agiva in questo modo davanti ai suoi occhi oltretutto. Lei non si faceva problemi nel sedurre, magari il suo ego aveva questo bisogno di piacere ma non è che lei lo tradisse, era semplicemente un bisogno di piacere però sfociava nella seduzione. Questa situazione gli restava nell'esofago. Considerava questo come non rispettoso ma può anche trattarsi di situazioni che consideriamo ingiuste. Nelle vie digestive ritroviamo spesso un sentimento di ingiustizia. Per quanto riguarda il sistema digestivo si tratta piuttosto di dolori legati a ciò che consideriamo ingiusto e che non possiamo accettare. Grazie a tutti.